Ed eccoci di nuovo qui Evelheim Oggi Allora, questi noi ce li prendiamo Non peraltro, ma perché abbiamo Abbiamo assaggiato diversi cibi Eeeh Oggi dobbiamo capire Cosa fare, cioè Questi me li porto Oggi dobbiamo capire come fare Anche perché Siamo arrivati a Qua c'è la forza, è fino a qua Non si muove No, dobbiamo capire Lo sconce Che credo che sia Questo qui Fai di Charcoal kiln Fai Eeeh Fai carbone Io lo posso pure mettere a ste parti Infatti mi servono le stone Altrimenti quel cazzo Ve lo costruisco Però ce n'ho Quante ne volete Vediamo un po' La zappa me la so tolta Vediamo se posso fare qualcosa di così Eh, ma c'è lo farlo così Questa è una roccia grossa No, lo so perché lo sto facendo Ma Penso di Voler fare un po' di spazio Al charcoal Ok Questo sia un ottimo spazio Per fare il charcoal kiln Che devo fare? Perché non me la fa mettere? Perché non me la fa mettere? Cosa deve succedere? C'è tutto E' un forno Quindi può stare all'aperto Cos'è che non va? Cos'è che non va? Cos'è che gli overprime? Devo fare la paletta Beh A parte che sto carico Come la merda carica Però Queste sono tutte cose Che mi devo riportare Vabbè Uso il potere del demonico No Porca di Mannaggia Quello Mannaggia Quella puttana Tu vedi Cristina Da venne in concerto Io volevo solo sistemarla La situazione Qua Traffi Ok E tu Che l'ho fatto? Niente, vabbè Eeeh, che dirò Va schifo Questo quando se lo posso mettere? Ok Ok Mi spiegate perché Non posso fare quel cazzo di carbone A parte che questo è il rifugio più brutto della terra Con un albero dentro tra le altre cose Ma C'è tutto per farlo Eccolo Tolgo ste rocce tanto Tu vedi se io devo fare tutto il suo cazzo dentro il terra Ok Ok Ecco qua Mannaggia quella putta Eccolo 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 Ok Eccolo 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 A posto Ma dove esce il carbone? Spero non da ieri Sfullo Mica esce da dietro il carbone, no? Ah, esce sempre da davanti Oh, e adesso... adesso si potrebbe Ok Adesso ha senso, ha senso tutto adesso Adesso ha senso tutto Allora, scusate un attimo, sono dovuto andare ad accompagnare il cagnolino a pisciare Perché altrimenti si pisciava sotto Ora Se è una torcia Ok A proposito di torcia Noi potremmo farne una torcia qui Furniture Mancata la resina Bene Delle altre cose Si è praticamente messo a fare notte Ma proprio notte notte E' un po' solo il cazzo Uh, va bene Ok Mi faccio Mi faccio Estu esposto Non è già quella puttana satanica Che cazzo è questo? No Di me, di me Ci mancava pure il letto Tu esposto Ok 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 Beh C'è la mamma puttana però eh Perché non lo aggancia La frangula, facciamo così Oh You feel cold Mamma da feel cold So che fa freddo qua Se non posso dormire Eh, che faccio qua se non posso Attacca Aspetta Facciamo questo Si può attaccare qua? Non aggancia quella puttana Ehhh Benvenuti in Volevo giocare in tranquillità Ma non ci riesco Questi sono tipo spio Se potrei fare così però Non aggancia quella paldraga Perchè qua mi dice di no? Neh, muo' arrivano pure i mostri Perchè cazzo non lo posso costruire qua? Ah, ma vedete che ci vuole Un supporto Ottimo Eh, per armi Eh, bene Mi ha detto esposto Ok Allora Iniziamo qua Non è questa? 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 Non è questa? Non è questa? Ah, perchè? Non è questa? E' questa? Noi, ecco l'aparù Ma c'è quella papaya Ma io questa cosa non l'avevo notata prima Ma perché non mi fa costruire un cazzo? Oh merda Come ho fatto a distruggere questo? Mannaggia quella pazza di merda Come ho fatto a distruggere questa cosa? Non si sa Ok set Woodball Non lo posso attaccare qua cazzo sotto Ok Posso anche andarci Ok Ma quindi da qui dovrei poter costruirci Qua è completamente rosso quindi no Questa cosa qua Se l'attacco qui Ma l'attaccata soprattutto? Tutto? Non voglio Non voglio Non voglio Non voglio Non voglio Tutto Tutti quanti Modano Venite qua Ma guarda Cristina Ma che ne è in concerto Addio Quello Quello quindi Ma che ne è in concerto? Lo metto qua Lo metto qua Fanculo Ah no veramente Non so manco perché mi ha fatto M'abbia fatto dormire Ok Guarda che merda di casa Ok Ma un giorno lo assistiamo Promesso Allora Ma andiamo a togliere Un po' di alberi Così facciamo Altre Altra Altra roba Da mettere dentro Dio Ok Che cazzo è questo? Che cazzo è? Che cazzo è sto cosa? Che cazzo è? Che cazzo è? Questo ma Questo però può essere utile Per farmi secchi tutti gli alberi Cioè se mi abbatte tutti gli alberi Mi fa quasi un piacere No ho preso l'albero Guarda qua Fa un macello Ah è praticamente un boss Ma guarda qua Ma ma mazza Ma distrugge tutto Cioè è folle sto qua Cioè guarda qua Però è il tuo migliore amico Per quanto riguarda le risorse L'unico problema è che lo devo tenere lontano da casa Cioè guarda qua Cioè guarda qua Ma come faccio distruggere sto cosa Tanto è Cioè guarda qua la roba Per me sta avvenendo una idea malsana in mente E se questo minasse Al posto mio Perché se minasse al posto mio Porca travia però Vieni 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 idrò Andiamo Quindi lo fanno Non lo fanno Madonna è questo che cazzo Mannaggia quella puttana Qua ci volevano pure gli altri Sono gli altri il problema Non lo fanno Non lo fanno Vabbè Copper Porca di quella puttana Vabbè Vabbè c'è un tentativo che dovevo fare Dovevo vedere un attimino se Se mi fottesse Se potessi fottere il sistema Ma non l'ho fottuto Non l'ho fanno Vabbè Porca duca! Quindi qua si prende il copper? E muori! Minchia! Allora vediamo un po' che cazzo passa... La testa del... Che cazzo si butta? Ok, vabbè... Andiamo a recuperare tutto qua dalla legna... Ma comunque è una benedizione il troll... Ha fatto... Ha fatto un lavoro pazzesco... Un po' che cazzo... Un po' che cazzo... Un po' che cazzo... Ma siamo in base? Un po' che cazzo... Ma quanti cazzo... No! No! Astordo! No! No, 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 no... Ok, fermi tutti... Un po' che cazzo... 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 E guarda quanta roba... Mi ha lasciato il troll in giro... Ok. Mamma mia attenzione di roba marsciata. Porca ragazza, non capisce più cazzo di niente qua. Allora, io dovrei capire che cazzo si possa fare con sta roba qua. Troll leather helmet. Ah, ciò c'è mo sneaky. Poi... Troll leather. Minchia. Minchia. la basso ok 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 c'è ma io con tutta sta cazzo di roba ma che ci faccio? che punto è questo? c'ho tanta roba eh c'è il deposito di copper però che non ancora finisco poi sti cazzo di troll quanto sono usciti? perca puttana guarda questo non esce? ah due ehi ciao 30 30 ok mi cambio così sono 5 minuti va bene ok ho finito il deposito praticamente ne ho ancora due mamma guardala che cazzo di bordello ma un casino cioè mi dovevo fare build dove tu vai clicchi 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 aspetti clicchi aspetti clicchi aspetti clicchi aspetti clicchi chissà se scavi sempre in giù che cosa succede poi ma quanto migliora il minare qua cioè ma poi sto facendo materiale ma in effetti questo materiale a che cosa mi serve? a parte che sono diventato fortissimo con 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 l'accetta ok così così siamo praticamente a posto ah beh non mi faccio mica fottere io dormo non di come accelera di notte quindi adesso è tutto finito? eh si ok beh io direi che stiamo a posto quanta pelle di 5 questo però non lo posso fare perchè a me è pro light che devo arrivare a livello di qua wait 5 l'armatura 6 eh minchia però vediamo un po' quanto costa fare con il martelletto se cosa è qui per eh il flinto eh il flinto eh il flinto il flinto il flinto ucciderà il mondo ok eh niente ragazzi allora io ho quello che posso fare oggi quello che posso fare oggi è fare questa roba qua allora vediamo un attimo mi porto questo i soldi questi 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 i rubini le ossa le ossa perchè mi serviranno sicuramente sta roba qua me la porto ah però c'è ancora un cosa da fare qua c'è qua c'è oh e questi dicevo io dicevo io ok eh questa pelle però me la dovrei portare eeeh questo ok ok allora fermi tutti che cazzo devo lasciare la resina la posso lasciare questi funghi qui li posso lasciare che cazzo posso lasciare queste cose qua queste cose qua me le devo portare tutti perchè sono valuabili mh mh la resina penso che la posso trovare dappertutto sai cosa posso prendere però posso lasciare tot di frecce eh questo pure posso lasciare che non ho ancora capito a che cazzo mi serve io sto rame me lo vorrei quasi portare ma alla fine è proprio il rame che pesa tanto alla fine è proprio il rame che pesa tanto quanto ce ne stanno ancora cinque qua dentro ok ok ho tutta questa roba che mi devo riportare ho tutta questa roba che mi devo riportare mi potrei riportare pure due pezzi di pelle perchè comunque torna utile e mi dovrei riportare assolutamente un po' di carbone e mi dovrei riportare assolutamente un po' di carbone ok 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 allora Così tanto pesa sto carbone? Ma è questo che pesa un sacco Ok 274 Ma quanto cazzo pesano sti cosi? Ok, basta Dov'è finito? Perfetto Allora, diciamo che Torci qua, posso pure lasciarla andare Torniamo a casino Beh, io mi fermo un attimo E torno a casino Anche perché è lunghissimo Questo episodio È diviso in due parti, non me ne ero accorto Ci vediamo al prossimo episodio Grazie a tutti Grazie a tutti